La Roma torna dalla trasverta di Manchester con un punto prezioso, giocando bene e regalandosi un secondo posto nel suo girone sorprendente quanto basta. L'1-1 con il City di Pellegrini conferma l'ottimo inizio di stagione fra Campionato e Coppe. Per Francesco Totti serata da incorniciare, diventando a 38 anni il giocatore più longevo del calcio mondiale ed europeo.